Un cordiale saluto da Andrea Biagione di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente si registrano 3 km di coda tra il Bivio con la variante del Valico e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma, un chilometro di coda per incidente in direzione Roma anche tra Valdichiana e Chiusi Chianciano. Si segnala che sulla 1 panoramica a causa di lavori fino alle 19 di stasera rimarrà chiuso il tratto tra Rioveggio e Aglio in entrambe le direzioni. Sempre a causa di lavori in A1 si ricorda che sono chiuse le corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandici in direzione Bologna con possibili disagio alla circolazione. Sulla statale Trebis e Tiberina a causa di lavori scambio di carreggiata all'altezza dello svincolo di Sansepolcro Sud che rimarrà chiuso in entrata e in uscita in direzione Roma. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!